Abbiamo fatto oggi insieme al collega consigliere comunale Massimo Battista di Una Città per Cambiare Taranto un giro di ricognizione al Parco Cimino e scendendo abbiamo trovato, ma già lo sapevamo, però è bello evidenziarlo tante, tantissime volte, questo panorama, questo scenario mozzafiato, questo panorama che si staglia sul Mar Piccolo fa venire i brividi, fa venire la pelle d'oca come si suol dire. Questo Massimo ci fa pensare a tante cose, alla risorsa turismo, alle ricchezze naturali che Taranto ha e che le varie amministrazioni e soprattutto questa non hanno saputo valorizzare. Si pensa al 6GP Massimo a sperperare 7 milioni e mezzo di euro quando qui partendo da queste risorse si poteva promuovere il territorio in vario modo. Il posto incantevole Luigi, Taranto è baciata dal Mar, da due Mar, Mar Grande e Mar Piccolo. Ci troviamo qui in zona Mar Piccolo, Secondosino, posto meraviglioso che in qualsiasi altro posto del mondo sarebbe una risorsa a differenza del nostro territorio. Come dicevi tu bene, questa amministrazione pensa che questa città possa cambiare solo ed esclusivamente con una regata. Qualcuno adesso quando vedrà il nostro servizio sorriderà. Una manifestazione che è costata per i prossimi due anni 7 milioni e negli anni precedenti altri 3 milioni e mezzo. 10 milioni di euro Luigi. Perché cosa? Per una ubriacatura di tre giorni, tre, quattro giorni. Mi rivolgo al sindaco Melucci. Perché non sfruttare le risorse, il prodotto riconosciuto in tutte le parti del mondo? Il brand proprio. Il brand della cozza Tarantina. Perché Taranto non debba fare una sagra della cozza come accade in tutte le città del mondo dove c'è una risorsa naturale? La cozza Tarantina. Perché non farla conoscere? Immaginiamo, ecco, prego il nostro operatore di riprendere. Immaginiamo qui Luigi, perché qualcuno dice stand, 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 cozze, aggratte, tubetti, ecco, c'è... Tutti le... ma i prodotti del mare. I prodotti del mare. L'enogastronomia. L'enogastronomia del territorio tarantino. Ecco da qui deve partire Taranto. Che io faccio una 6GP a Taranto che costa un sacco di soldi. E' una manifestazione di nicchia per pochi intimi. Non porta assolutamente niente perché poi il Comune di Taranto è costretto ad aumentare le tasse dei cittadini di Taranto. Invece qui investire non 7 milioni di euro. Chiamare tutti gli operatori, tutti i medicoltori di questo territorio a dire, ragazzi, da qui si parte oggi. Dal prodotto, uno dei prodotti più importanti del nostro territorio, che si chiama Cozza Tarantina. Rinomata in tutto il mondo. Partiamo da qui. Invece noi partiamo da cosa? Da una legata che non porta niente. Basti pensare che a Taranto, Luigi, non abbiamo le strutture per poter ospitare. Ospitare è modificare o manutenzionare questi catamarani. Sì, ragazzi, noi dobbiamo partire dalle cose, da quello che la natura ci ha donato. Noi, Massimo, facciamo una politica di fatti concreti. Ecco, non siamo per i rendering. Questa amministrazione sa vivere solo di rendering, di progetti, di annunci. Allora scendiamo dal piedistallo, da questa fanta politica, fanta amministrazione che ci disegna Melucci. Andiamo a scoprire, a valorizzare questa risorsa in altre parti d'Italia. Un bene del genere verrebbe valorizzato al mille per mille. Qui rimane un qualcosa di nascosto, peraltro immerso nell'incuria e nel degrado. Siamo da mezz'ora qui. Il silenzio è un posto veramente incantevole. Come abbiamo detto prima, in qualsiasi parte del mondo questo posto sarebbe oggetto di turisti, sarebbe oggetto quotidianamente, porterebbe tantissimi soldini nel nostro territorio. Sarebbe davvero modo di fare marketing del territorio stabilmente. Che dire, per concludere, un angolo di paradiso che purtroppo questa amministrazione ha reso un inferno.